perché siamo gelosi da dove nasce questo sentimento a volte molto doloroso volendo iper semplificare questo complesso processo di pensiero possiamo affermare che la gelosia affonda le sue radici su due cause principali 1 noi siamo gelosi quando percepiamo di non ricevere abbastanza amore e conferme dalla persona amata che invece riserva le sue attenzioni ad altre persone attenzione sto parlando di percezione spesso non siamo gelosi perché non riceviamo sufficiente amore ma siamo gelosi perché percepiamo di non riceverne abbastanza questa è una distinzione importante soprattutto se trasportata sui nostri figli tuo figlio è geloso non perché necessariamente non riceva abbastanza amore da parte tua ma perché lui sente di non riceverne a sufficienza la seconda causa risiede sui modelli di riferimento mi spiego meglio giorgio è geloso di anna benché lei lo ricopra di mille attenzioni secondo il modello di giorgio anna non dovrebbe mai uscire non dovrebbe sentire i suoi amici non dovrebbe desiderare di andare in palestra se l'uomo veramente dovrebbe essere già pienamente soddisfatta esclusivamente dal loro rapporto anna invece pur amandole e pur dimostrandoglielo desidera anche mantenere le relazioni di amicizia la gelosia di giorgio nasce dal fatto che il suo modello d'amore non combacia con quello di anna torniamo ai nostri bimbi e cerchiamo di capire da dove può nascere la loro gelosia 1 dalla percezione di mancanza di amore di stima e questo accade soprattutto quando noi genitori abbiamo una modalità educativa a volte basata su urla punizione minacce e sui date ti ricordo che le urla le prediche i giudizi continui il tono arrabbiato e scocciato per quanto siano assolutamente comprensibili e siano sempre motivate da ottime intenzioni educative non fanno mai percepire al nostro piccolo interlocutore amore e stima le urla i giudizi le prediche le punizioni vengono sempre registrati dal nostro cervello come un attacco non come una manifestazione d'affetto 2 la gelosia dei nostri bimbi può nascere dai loro modelli egocentrici la mia mamma deve solo stare con me non può prendere in braccio il mio fratellino non deve fare i complimenti a nessuno il mio papà non può toccarla i miei genitori devono parlare solo con me e non fra di loro cosa posso fare per aiutare mio figlio con la sua gelosia come sempre permetto che un breve podcast non può essere esaustivo ma desidero semplicemente condividere alcuni spunti 1 dedica del tempo esclusivo ai tuoi figli ogni bimbo ha bisogno di tempo esclusivo tutto per sé anche se ci sono altri fratelli e non il tempo dei compiti o di altri doveri quotidiani ma tempo per stare bene giocare leggere un tempo divertente dedicato alle cose che ama immagino che stai per dirmi ma dove trovo il tempo fra lavoro a casa figli se devo pensare di dedicare ad ognuno uno spazio personale non mi bastano le 24 ore ed effettivamente la questione del tempo turba parecchio anche me ma ti invito a trovare comunque qualche minuto di spazio individuale non servono ore bastano 10 20 minuti ma per i prima di andare a letto quei 10 minuti ti risparmiano un bel po di tempo di arrabbiature e di consolazioni 2 attentissimo ai ruoli che dai a tuo figlio quando sono più bimbi è facile che uno sia un pochino più turbolento e l'altro più tranquillo se comincia ad etichettare il più turbolento come il più monello quello che non ascolta quello che piange sempre quello che non è mai contento automaticamente gli instilli i semi della gelosia per il fratello attento a come ti comporti a ciò che dice ai tuoi figli a come parli dei tuoi figli agli altri crea ruoli positivi per tutti perché sono tutti meravigliosamente in gamba per motivi diversi e questo vale anche se hai un solo figlio attenzione ai paragoni ai paragoni con gli amici cugini compagni guarda lui quanto è bravo non come te 3 evita continue sgridate immagino che tu possa dirmi come faccio a trattare allo stesso modo i miei due figli quando uno si comporta bene mentre l'altro non ascolta ovvio che il tuo comportamento dovrà essere diverso e c'è una soluzione insegna al figlio che sbaglia dagli regole fatti ascoltare ma evitando urla offese punizioni ed etichette a tal proposito ti invito a leggere mio figlio non mi ascolta la soluzione in sei semplici mosse che puoi trovare su amazon.it 4 tratta i figli in modo differenziato lo so che ti si stanno rizzando i peli ma mi spiego subito differenziato non significa dimostrare preferenze ma significa trattare i tuoi figli come due individui diversi spesso mi capita di sentire i genitori che mossi da intenzioni straordinariamente amorevoli facciano le stesse azioni per i due figli al compleanno dell'uno regalo per entrambi uno ha bisogno di un paio di scarpe allora si compra anche all'altro qualcosa e via dicendo paradossalmente questo atteggiamento aumenta la gelosia perché i fratelli impareranno sempre a paragonarsi fra loro e ognuno controllerà che ad un dono fatto il fratello ne abbia subito uno anche lui la cosa più utile invece è riconoscere tempi e spazi per ognuno in modi diversi il giorno del compleanno si festeggia solo l'interessato così ognuno impara ad essere al centro dell'attenzione impara anche a stare un secondo piano festeggiando il fratello qualche tempo dopo i ruoli verranno invertiti se un figlio ha bisogno delle scarpe si comprano solo a lui la volta dopo sarà il contrario e se tu vivi con serenità queste differenze spiegandole con amore i tuoi figli impareranno a vivere con gioia momenti del proprio protagonismo e ad accettare con serena normalità i momenti del fratello 5 insegna modelli utili ovviamente il tuo bimbo desidera essere sempre al centro dell'attenzione potrebbe chiederti di non parlare al papà o viceversa di non prendere in braccio il fratello o non fare i complimenti agli amici è un atteggiamento da comprendere ma non da accettare non accontentarlo in queste richieste e insegnagli con un metodo fermo e gentile dei modelli sociali più utili anche in tal caso è fondamentale saper dar bene le regole ai propri figli sei tu sei grande frase magica che fa impazzire i primogeniti lascia il gioco che tu sei grande pulisciti da solo sei grande ormai sistemati la camera ormai sei grande porta pazienza tu che sei grande parlando in questo modo associa la parola grande una serie di compiti assolutamente svantaggiosi e viceversa lui è piccino accontentalo lui è piccino fallo passare lui è piccino perdonalo insomma crescere è una bella fregatura cosa fare associa la parola grande diritti e privilegi più simpatici tu che sei più grande puoi andare a letto più tardi tu che sei grande puoi guardare questo programma che il piccolino non potrebbe mai vedere sette gestisci bene i conflitti questo titolo meriterebbe un podcast di due ore anche in questo caso cerca una regola più generale evita di dare colpe e ragioni cerca soluzioni concrete ad esempio se litigano per un programma in tv perché ognuno vuole scegliere ciò che desidera aiutali a trovare una regola e poi farla rispettare sempre con la solita gentile fermezza di cui parliamo ormai da tempo ad esempio siccome abbiamo solo una tv scegliete a turno un giorno per ciascuno così è più facile intervenire nei conflitti perché hai una regola condivisa su cui basarti e non la casualità del momento supponiamo che tuo figlio carlo voglia scegliere anche se non è il suo turno tu a questo punto puoi intervenire dando il telecomando a mario ma a questo punto è fondamentale che mentre fai rispettare fermamente la regola dei turni eviti di scagliare prediche e giudizie contro carlo rimani tranquillo ascolta le sue ragioni se ti è possibile consolalo rimanendo irremovibile nel rispetto della regola fermezza e gentilezza coerenza e rispetto in questo modo eviti di cercare il colpevole di etichettare i tuoi figli con ruoli scomodi che generano poi gelosia li ami entrambi anche quando non si comportano bene e nel contempo insegni loro delle ottime regole sociali che aiutano la convivenza e spengono la gelosia se ti è piaciuto il contenuto di questo podcast e vuoi essere immediatamente aggiornato sulle nuove pubblicazioni rimanendo più direttamente in contatto con me puoi fare tre semplici cose uno iscriviti al canale youtube due iscriviti alla newsletter su risposte pedagogiche tre visita il sito sabrina salmaso dove puoi pormi tutte le domande che desideri iscriviti al canale